Clamoroso ragazzi, clamoroso dalla UEFA, però secondo me è anche giusto la decisione presa dalla massima divisione calcistica europea Federazione Calcistica Europea, scusate, della UEFA di annullare ufficialmente la partita Barcellona-Napoli quindi rinviarla, non annullarla, perché annullarla significa proprio toglierla di mezzo invece è stata rinviata a situazioni migliori, vado a dire, per il coronavirus quindi ufficialmente è arrivato oggi il comunicatore di Barcellona-Napoli, scusate si giocherà settimana prossima, poi data da destinarsi la data del recupero della partita allora, secondo me la UEFA, e ci volevo fare già un video al riguardo adesso invece mi vedo costretto a fare questo video qui però volevo farci già un video al riguardo, secondo me la UEFA sta facendo un macello cioè, tu nel momento in cui vedi che Rugani è positivo al coronavirus, perché lo è poi hai la conferma con Gabbiadini, poi vedi che in Italia hanno chiuso tutto perché oramai qui, io sto in un paesino e per esempio è aperto solo un minimarket e una farmacia da noi bar e locali, tutto chiuso, quindi mi immagino nelle città nel momento in cui vedi che in Italia hanno preso provvedimenti talmente drastici tu, le partite, devi dire, care Barcellona, care PSG, care Liverpool, tutte quante tutte le squadre più forti d'Europa abbiate pazienza, preferisco farvi giocare in un clima sano piuttosto che rovinarvi lo spettacolo tutte le partite si inviano a dopo il 3 aprile la Champions si giocherà in estate, molto molto più suggestivo vediamola come un'opportunità storica per fare anche più ascolti e così via non che adesso si è giocato a metà delle qualificazioni poi settimana prossima a Barcellona poi non ci giocherà Juve e Lione chissà che cazzo succederà perché poi dovrebbero venire quelli a Torino con tanto di Rugani positivo al Covid poi tutte quelle altre cose il Getafe, il Getafe-Roma scusate, il Getafe-Milan e Siviglia-Roma sono state annullate rinviate, per virgolette quindi veramente che cazzo fai, annulla tutto cosa e non è che le partite delle squadre italiane e francesi perché poi anche le francesi le fai rinviare e poi adesso c'è l'Atletico qualificato, l'Atalanta qualificato e tutte le altre, non si sa che succede fino al 3 aprile come ha detto Gattuso come ha detto Gattuso, o si gioca o non si gioca perché una cosa è giocarle adesso le partite, una cosa è giocarle tra un mesi, tra due mesi chissà quando cazzo finirà questa storia quindi niente, parlando del Napoli oramai il Napoli non ha più partite in calendario perché è stata rinviata anche questa era questa, l'unica partita che poteva essere giocata adesso il Napoli è totalmente in vacanza è totalmente in vacanza e quindi non vedo perché dovrei prendermi un bel periodo di vacanza anche io, no, scherzo ad ogni modo, per parlare delle partite del Napoli ci vediamo tra un mese ragazzi perché oramai le partite del Napoli non ne vedremo più per un mese e mi piange il cuore sinceramente cioè io non so come fare senza il Napoli penso che mi rivedrò i televideo di tutte le altre partite di Serie A e di Champions che abbiamo fatto e quindi niente bella la marca azzurra vi ricordo di attivare la campanella se no non vi arrivano dei feed di iscrivervi, lasciare like e commentare cosa ne pensate di questa di questo annuncio dell'invio della partita noi ci vediamo alla prossima è bella grazie grazie